In un momento storico come quello attuale, dove la gestione della ristorazione in generale è diventata complicatissima, con un sacco di problemi, ho sentito la forte esigenza di avvicinarmi a uno strumento che mi permettesse di avere un controllo di gestione in profondità di quella che è la mia azienda. Sette locali da gestire con sette format completamente differenti, una cosa complicatissima, avevo l'esigenza di trovare uno strumento che mi permettesse di poterlo fare. Ad oggi ho la possibilità di analizzare tutti i miei menù e di poter eventualmente cambiare un prezzo o togliere un piatto che non funziona dal menù praticamente in tempo reale. Un'azienda composta nel periodo estivo da quasi 80 elementi, sette locali che ovviamente viaggiavano ognuno slegato dall'altro con centri di costo separati, dei menù che venivano organizzati ad hoc per ogni, diciamo per ogni locale, un sacco di confusione. Sirve mi permette di mettere tutto insieme in un unico contenitore e questo porta a tantissimi vantaggi. La gestione della cassa è uno degli aspetti ovviamente più importanti. Ogni mio collaboratore ha la possibilità di gestire la cassa con semplicità andando ad eseguire quelle che sono le direttive aziendali. I dati e le informazioni sono in tempo reale, perciò non è che uno fa l'analisi quando ormai è troppo tardi e non c'è più la possibilità di andare ad intervenire e a correggere il problema. Sirve ti dà dei dati che sono orari perché c'è la possibilità di analizzare ora per ora quello che succede all'interno delle varie strutture. Questo cosa porta? Porta a poter prendere decisioni, modificare il menù e modificare i turni del personale in tempo reale. La caratteristica che è a me più entusiasma è quella che ti dà la possibilità di andarti a organizzare tutti i vari report per le esigenze dell'azienda. Dallo smartphone ho la possibilità di vedere quello che è presente all'interno dei nostri frigoriferi e poter lanciare delle promo sulla vendita del dolcino che mi sta andando in prossimità di un'eventuale scadenza. In questi ultimi mesi si sente molto parlare di intelligenza artificiale. Sirve la utilizza dal 2016. In pratica è come avere un partner sempre in azienda che ti suggerisce come fare gli acquisti, come gestire il personale, che ti aiuta ovviamente a realizzare i vari menù. La gestione degli ordini è semplicissima, con uno smartphone o direttamente dalla cassa abbiamo la possibilità, dopo aver inserito una lista della spesa, di effettuare l'ordine direttamente al nostro fornitore inviando una mail, con semplicità e velocità. Al momento del ricevimento della merce, la merce non viene più ovviamente smarcata alla vecchia maniera con la bolla di accompagnamento evidenziatore, ma ovviamente viene tutto flaggato sul nostro tablettino. Questo ti va immediatamente a creare il magazzino, un magazzino che ovviamente anche quello viene gestito in tempo reale e viene scaricato in tempo reale. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!